Mette una chiappa qua, l'altra la botala, è proprio una gallina, la gallina non è un animale intelligente, la gente non si capisce, non si capisce, ma come guarda la gente. Ha fatto cocconi, scoletta come se avesse i tacchi a spillo, in mezzo alla strada sta accovacciata, la ruota la schiaccerà. Ma nel resto, tutta la vita fa ruota, e la gallina seduta nella vigna, ripete, ripete, ripete il suo gesto. La gallina non è un animale, intelligente, lo si capisce, lo si capisce, da come guarda la gente. La gallina non è un animale, intelligente, ma è tanto buona, esaporita, e piace tanto alla gente. Grazie. 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 Grazie.